ciao ragazzi alle mie spalle i letti di euro disney sono ultimi giorni qui ad euro disney però prima di dimenticarmelo volevo darvi una interessante informazione per quanto riguarda la francia e in parigi in particolare diciamo che in questi tre quattro giorni di vacanza ho potuto fare il turista in modo perfetto e completo grazie a questa questa che è una tessera di trasporto parigina dove hai accesso a tutte le metropolitane tutti i servizi pubblici che sono veramente completissimi nella copertura di tutta la città perciò puoi girare i musei le varie attrazioni in maniera molto completa perciò vi consiglio di farla costa 30 euro si può fare tramite un app ma non funziona in tutti i telefoni df mobility oppure arrivate direttamente in francia in parigi sono arrivato all'aeroporto c'è un ufficio dedicato dove ti faranno questa tessera l'unica cosa importante di non dimenticarvi di portare appunto una foto tessera perché sarà sarà con con la foto la validità questo è un grosso una grossa pecca al mio modo di vedere perché erroneamente ho detto o io ho detto agli addetti che durava una settimana invece non è così la tessera non dura una settimana ma dura da lunedì alla domenica perciò se voi doveste arrivare a parigi il sabato sappiate che facendo questa questa tessera vi durerà soltanto da sabato a domenica e lunedì la dovreste rinnovare con altri 30 euro perciò diciamo che la settimana loro lo intendono questa non dalla partenza della stipula dell'abbonamento ma da lunedì a domenica forse a mio avviso è un'unica pecca l'unica pecca di questa ripeto questa carta utilissima per chi va a parigi tutto qua mi auguro di esservi stato utile ciao un abbraccio da Disneyland Paris